Grazie a tutti. Grazie Presidente. Parliamo di sperimentazione della terapia con il plasma iperimmune contro il Covid-19. Un'interrogazione, Assessore e cari colleghi, depositata in questo Consiglio il 12 di maggio. Chiaramente aveva l'interesse e la proposizione di mettere all'attenzione della Giunta e del Consiglio un atto che parte dall'esperienza maturata nella prima fase della pandemia e chiaramente per cercare anche di comprendere come questa prassi, questa procedura potesse in qualche maniera essere risolutiva per affrontare un dramma come quello che sta provocando il Covid-19 in Italia e chiaramente non solo dal punto di vista sanitario con le tante vittime ma anche dal punto di vista economico. Quindi ricordo che presso il Policlinico San Matteo di Pavia e l'ospedale Carlo Poma di Mantova ha in corso la sperimentazione della terapia che prevede l'utilizzo della plasma iperimmune contro il Covid-19. Ricordato che la sperimentazione prevede la somministrazione a pazienti positiva il Covid-19 di plasma iperimmune prelevato da soggetti guariti dal medesimo virus. Il protocollo prevede in particolare la somministrazione al massimo di tre dosi di plasma iperimmune a distanza di 48 ore l'una dall'altra. Presso atto, secondo quanto riferito all'azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, che i primi dati della sperimentazione e mi permetto, Assessore, che questo testo è stato scritto il 12 di maggio, quindi chiaramente con una valutazione testuale che si rifà a quello che si conosceva a maggio. Sono risultati molto incoraggianti. Presso atto altresì che, secondo quanto riferito dal direttore del Servizio di Immunologia e Medicina trasfusionale del Politecnico di Pavia, alla stampa locale, che il trattamento al plasma iperimmune è l'unico razionale sia biochimico che immunologico del coronavirus, che abbiano in questo momento avuto risultato. Ha un notevole livello di sicurezza virale ed è praticamente senza effetti collaterali. Considerato infine che la terapia con il plasma iperimmune è estremamente economica e che consentirebbe di accumulare plasma trattato necessario per eventuali future ondate di contagio, tutto ciò premesso Assessore interrogo alla Giunta regionale per sapere se anche nella nostra regione le strutture sanitarie hanno avviato la sperimentazione della terapia con il plasma iperimmune contro il COVID-19 e, in caso affermativo, gli esiti di tale sperimentazione. Naturalmente, Assessore, ho qui qualche notizia di stampa che viene tratto dalla rivista Donatori H24, dove ci sono delle valutazioni anche dei dati che ovviamente creano comunque aspettative e interesse da parte di opinioni pubblica. Ricordo una recente trasmissione televisiva dove si è trattato dei risultati di questa prassi medica e quindi chiedo anche sulla base delle sollecitazioni che seguirono a quella trasmissione andata in onda una quindicina di giorni fa di sapere se all'interno della regione Umbria dove questi pazienti guariti da COVID-19 possono spontaneamente recarsi e pubblicizzare l'eventuale, ovviamente, possibilità di donare plasma perché effettivamente pare che questa, diciamo, in qualche maniera sia comunicato poco anche dal punto di vista, diciamo, multimediale, nel senso sia stampa che social media. Questo è quello che le chiedo. Grazie, Assessore. Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Mancini. Assessore Coletto. Grazie, Grazie, Presidente. Nella regione dell'Umbria, con il dottor Mauro Marchesi, direttore del Servizio Immunotrasfusionale dell'Azione Aspideniale di Perugia, partecipa allo studio Tsunami. È una sperimentazione, uno studio clinico, dove si utilizza il plasma di donatori guariti da COVID-19 come terapia precoce della polmonite SARS-CoV-2 o sindrome respiratoria acuta grave. Alla base dell'ipotesi di utilizzo del plasma viene premessa che, in attesa del vaccino specifico, si possono utilizzare anticorpi presenti nel plasma di un soggetto guarito dalla malattia. L'obiettivo dello studio consiste nel valutare l'efficacia e la sicurezza del plasma derivante da pazienti guariti per COVID-19. Infatti, tale plasma, concentrato, viene infuso nei pazienti affetti da SARS-CoV-2 che hanno sviluppato la polmonite, ma non necessitano ancora della ventilazione invasiva, cioè non sono intubati. In sintesi, lo studio mira a valutare la capacità di tale terapia nel diminuire il ricorso alla ventilazione meccanica, la mortalità e la durata dell'ospadializzazione. Pertanto, non riguarda il trattamento dei pazienti più gravi, ovvero già intubati, come erroneamente gran parte dell'opinione pubblica ritiene. Lo studio è di tipo multicentrico, cioè richiede il coinvolgimento di diversi centri di ricerca presenti sul territorio italiano, in quanto i criteri di selezione sia dei donatori del plasma che dei riceventi arruolati affetti da SARS-CoV-2 con le caratteristiche suddette risulta molto complesso. Infatti, per raggiungere un campione sufficiente di pazienti trattati al fine di trarre conclusioni statisticamente valide sono necessarie 474 pazienti e ciascuno con follow-up di almeno 30 giorni. Lo studio vede quale centro promotore dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana affiancato dall'IRCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia. Al 2 novembre 2020, in base ai dati ottenuti del studio superiore di sanità, cui compete attualmente la funzione di centro di coordinamento e supervisione nazionale assieme ad AIFA, i risultati attivati, risultano attivati 29 centri reclutatori in 14 regioni, di cui solo 14 hanno arruolato un paziente. Le principali tappe dell'iter di svolgimento in sintesi sono state a marzo 2020 è partita l'interlocuzione tra regione e azienda ospedaliere di Pedugia. Il 7 maggio, nella seduta del Comitato Etico Regionale, è stato approvato il protocollo tsunami che prevede il coinvolgimento di quattro centri trasfusionali dell'Umbria e le relative unità operative Covid-19. In data 11 maggio è stato lanciato un appello ai potenziali donatori di sangue e democomponenti ad offrire la loro disponibilità a donare plasma. In data 18 maggio è iniziato lo screening dei potenziali donatori, considerato che nei primi pazienti sono stati arruolati nella metà dell'agosto del 2020 al 2 novembre del 2020, risultano arruolati complessivamente 234 pazienti, di cui 193, 19, 18 e 4, rispettivamente a centri toscani, umbri, lombardi e marchigiani. L'Umbria è quindi la seconda per pazienti arruolati. In dettaglio l'attività dei centri umbri. L'ospedale di Perugia, donatori di plasma iperimmune sono 41, i pazienti ricevuti e arruolati sono 19. Nell'ospedale di Terni, donatori di plasma iperimmune sono 2, i pazienti arruolati nessuno. Nell'ospedale di Città di Castello, i donatori di plasma iperimmune sono 7, i pazienti arruolati nessuno. Nell'ospedale di Foligno, i donatori di plasma iperimmune sono 12 e i pazienti riceventi arruolati nessuno. Per ciascun donatore effettivo sono stati testati dai 10 ai 20 donatori potenziali a seconda di casi. Si sottolinea il fatto che lo studio prevede il monitoraggio regolare dei dati da parte di un comitato indipendente, per cui qualsiasi evento avverso che dovesse emergere prima delle analisi programmate sarebbe prontamente intercettato e gestito. Tale comatato appartiene alla Fondazione GIMMA, gruppo italiano Malattie Ematologiche per l'Adulto, che ha una mission istituzionale, come mission istituzionale, la promozione, la gestione e il coordinamento dei protocolli di ricerca clinica indipendente sulle malattie del sangue. Ad oggi non esistono valutazioni in termini di efficacia e sicurezza relative allo studio in oggetto, in quanto la prima analisi dei dati si prevede verrà effettuata entro dicembre e, come già accennato, oltre al numero di pazienti arruolati, almeno 120, è importante il periodo di follow-up cui ciascun paziente viene sottoposto, che vale almeno 30 giorni. Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Consigliere Mancini. Allora, io diciamo che la relazione dell'Assessore, chiaramente, visto anche il lasso di tempo molto compresso, mi pare da agosto al 2 di novembre, i numeri non potevano essere diversi. Onestamente, Assessore, me l'aspettavo. Però faccio una riflessione di carattere, mi permetto, anche di valore della tradizione ematologica di questa regione. basta ricordare che tante malattie che riguardano, diciamo, la degenerazione del sistema sanguigno, quindi le leucemie, ne abbiamo da insegnare al mondo. Cioè, e tra l'altro, mi risulta storicamente che dall'allora Monteluce, ospedale di Monteluce, nel 1965 un cospicuo numero di medici andò e migrò a Pavia e da quel momento quell'ospedale ebbe un'esplosione di qualità di servizi sanitari eccellenti, perché in quegli anni lì quell'ospedale, parlo dell'ospedale di Perugia, aveva uomini e donne di grande qualità che poi hanno portato avanti tutta una serie di grandi risultati riconosciuti a livello mondiale. Quindi in questa regione c'è un humus positivo che secondo me non deve essere, come si dice, in qualche maniera messo in secondo piano. Quindi io, per quello che mi riguarda, invito sinceramente a credere in questa prassi, in questa procedura medica, perché mi pare che risulti essere positiva in tantissime altre malattie. Di conseguenza non capisco perché poi in altre parti del nord Italia la plasmoterapia ha determinato, come abbiamo potuto vedere anche in quella trasmissione televisiva, una particolare richiesta da parte dei medici per agire sui pazienti, tant'è che nella stessa si evidenziava la carenza del plasma stesso e la carenza di donatori. Cioè io vorrei capire, a fronte dei numeri di 19, 2, 7, 12, parlo di Perugia, parlo di Terni, parlo di 7 di Città di Castello, parlo dei 12 di Foligno che sono stati donatori, mi pare che poi alla fine tra il cittadino paziente, ex paziente donatore poi non ci sia stato nella pratica, se ho ben capito, assessore l'infusione. Quindi bisogna capirne se non c'è stata una richiesta nel diritto del paziente oppure siano procedure che in qualche maniera dalla rete medica delle nostre aziende ospedaliere non venga considerata una prassi interessante. Quindi detto questo, la esorto, per quello che mi riguarda, la esortiamo a perseguire questa metodologia, nello stesso tempo anche pubblicizzare che questo atto di donazione comunque può consentire a pazienti al di là dell'Umbria di avere un'opportunità in più oltre le normali procedure o del vaccino che arriverà, si spera, nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie, chiamo l'oggetto numero 11, spostamento delle risorse Ex Sisma 2016 destinate per edificio Ex Ospedale San Florido di Città di Castello. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde il vicepresidente Morroni? Sì? Grazie. Prego, consigliere Bettarelli. Sì, l'interrogazione fa seguito ad una serie di, diciamo, interrogazioni, mozioni, una delle quali è anche bocciata recentemente, e interrogazione e risposta scritta sempre sul medesimo argomento. Parliamo dell'ex ospedale di Città di Castello, una struttura imponente posizionata proprio... Per favore, consiglieri. ...posizionata al centro della città, in un luogo anche estremamente strategico e fa riferimento ad una struttura, diciamo, in disuso, direi in abbandono ormai da venti anni. Quindi, ovviamente, non ne faccio una questione tutta riferibile a questa amministrazione, a questa giunta regionale, ovviamente. Eravamo, però, arrivati, diciamo, nei ultimi anni ad uno snodo cruciale, anche grazie all'impegno del Consiglio e della Giunta nel 2018 e nel 2019, attraverso cui c'erano delle risorse disponibili per partire con il recupero della struttura, in quanto tale che è di proprietà della Regione Umbria, quindi nel patrimonio, in disponibilità della Regione Umbria. E, in modo particolare, la Regione Umbria, attraverso i fondi del post-Sisma 2016, aveva individuato una cifra importante, una somma di 3 milioni incrementabili, fino ad un 20%, per il recupero di questa struttura, appunto, in disponibilità al patrimonio della Regione. Fra l'altro, con un accordo deliberato in Giunta nel maggio 2019, in cui i tre soggetti, ASL, Regione e Comune, avrebbero fatto ognuno la sua parte per quello, diciamo, di competenza. Quindi, oltre ai 3 milioni più il 20%, quindi, sostanzialmente, 3 milioni e 600 mila euro, vi erano un paio di milioni che avrebbe messo a disposizione l'ASL 1, con, poi, la possibilità, diciamo, di scomputare tutti quelli che erano eventuali affitti, spostando in questo luogo la cosiddetta Casa della Salute, e il Comune di Città di Castello aveva messo, diciamo, sul piatto l'ascito Mariani per una somma complessiva di oltre 4 milioni. Quindi, complessivamente, si era raggiunto una progettualità che avrebbe comportato di avere a disposizione una cifra che si aggirava intorno ai 10 milioni di euro, che comunque sono una cifra consistente. Forse non avrebbero risolto, diciamo, completamente la sistemazione di questa struttura così imponente, ma, insomma, diciamo che erano una bella, bellissima, bellissima fetta. Quindi, in sostanza, e la faccio breve, perché, ripeto, la questione ormai è annosa, io, a fronte della risposta che ho ricevuto, per cui questi 3 milioni che erano stati predisposti col post-sisma sono stati spostati su altre strutture, non so quali, ma, tra virgolette, in questo momento non è questo l'oggetto, anzi, è la questione che questi 3 milioni per il recupero dell'ex ospedale di Città di Castello non ci sono più, quindi la domanda che pongo alla Giunta regionale è capire, anche a fronte del fatto che credo che, passandoci spesso, questa struttura comincia ad avere anche dei problemi di pubblica sicurezza, perché, comunque, il tetto, in parte, è caduto, ci sono, insomma, anche delle questioni, credo, relative proprio all'incolumità di chi passa. Chiedo, quindi, ecco, in sostanza, quali sono le idee, quali sono le volontà di questa amministrazione, se sempre intenzionata a recuperare la struttura ex ospedale, magari per farne la casa della salute, o comunque a recuperarla e metterla in sicurezza, e, se sì, attraverso quali risorse. Grazie, Consigliere. Vice Presidente Morroni. Grazie, Vice Presidente. Collega Consigliere, rispondo in sostituzione della Presidente, che è trattenuta per una riunione della Conferenza Stato-Regione, quindi è impossibilitata a partecipare a questi lavori. Una brave cronistoria per ricollegare un po' le vicende di questa antica questione, come giustamente il Consigliere sottolineava. All'ospedale San Florido, in città di Castella, è pervenuto al patrimonio dell'amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti della allora vigente legge regionale 26 maggio 2004, la numero 7. In data 30 giugno del 2006, è stata siglata la Convenzione tra la Regione Umbria e l'Azienda Sanitaria Locale numero 1, secondo la quale la Regione Umbria procederà alla riconversione e valorizzazione di tale patrimonio, in conformità alle previsioni urbanistiche del Comune di Città di Castello, assegnando all'Azienda e alle risorse costituenti il risultato netto dell'operazione di valorizzazione. Le risorse verranno destinate al potenziamento e al miglioramento dei servizi sanitari resi sul territorio, secondo un programma di interventi predisposto allo scopo dell'Azienda Medesima da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Con DPGR numero 142 del luglio 2006, sono state completate le procedure di trasferimento al patrimonio della Regione Umbria dell'ex presidio ospedaliero San Florido, ai sensi, come richiamato in precedenza, della legge regionale numero 7 del 2004. Con delibera della Giunta regionale numero 1561 del 13 settembre 2006, la Giunta regionale, nel prendere atto dell'avvenuta devoluzione della permanenza del vincolo di destinazione sanitaria in relazione ai suddetti cespiti immobiliari, ha stabilito che gli stessi entravano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 9,1 dell'etra della legge regionale 18 aprile 1997, la numero 14, degli articoli 3 e 4 della legge regionale numero 11 del 1979 e degli articoli 826 e 828 del Codice Civile. Successivamente, con delibera della Giunta regionale numero 313 del 27 marzo del 2012, la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, di autorizzare la cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria e, conseguentemente, classificare il bene immobile al proprio patrimonio disponibile. Inoltre, di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2,1 della legge regionale 7 del 2004, i proventi derivanti dalla valorizzazione del plesso ospedaliero dismesso San Florido saranno messi a disposizione dell'azienda USL numero 1 nei modi e nei termini previsti dalla Convenzione sottoscritta dalla Regione e l'azienda Medesimi in data 30 giugno 2006 per il potenziamento ed il miglioramento dei servizi sanitari resi sul territorio. Con la deliberazione numero 227 del 30 gennaio 2018, l'Assemblea legislativa impegnava la Giunta a sottoscrivere un accordo di programma tra gli enti interessati, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per procedere ad una riqualificazione dell'ex ospedale San Florido tale da consolidare l'intero immobile, rendendo utilizzabile il piano terra per ospitare la città della salute. Secondo la bozza del protocollo d'intesa, predottato con delibera della Giunta regionale 680 del maggio 2019, gli enti coinvolti avrebbero assunto i seguenti impegni per tale finalità. La Regione, alla data del 18 gennaio 2018, la Regione risultava destinataria da parte del Commissario per l'emergenza terremoto 2016 di un contributo, come lei stesso ricordava, pari a euro 3 milioni da assegnare all'ex ospedale San Florido, città di Castello, con possibile incremento del 20% ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del maggio 2018 relativa alla congruità dell'importo richiesto. Per quanto riguardava l'azienda, l'azienda Asle Umbria numero 1, utilizzare il piano terra dell'immobile, circa metri quadri del 2005, per realizzare la struttura unificata dei servizi sanitari territoriali, la cosiddetta città della salute. Ed infine il Comune, per quanto riguardava il Comune, la disponibilità di risorse finanziarie pari a milioni 3,7, derivanti dall'ascito della signora Clara Mariani, da impiegare per finalità vincolata alla salute e all'assistenza. Tuttavia, come chiarito dal parere proveritate reso dal professore avvocato Gianfranco Palermo in data 6 marzo 2020, su richiesta del Comune di Città di Castello, il destinatario di tale lascito è l'azienda Asle Umbria numero 1, senza vincoli destinatori. Inoltre, secondo il succitato parere proveritate, il lascito Mariani si configura come patrimonio indisponibile dell'azienda USL, pertanto l'impiego dello stesso dovrà tradursi in un ambito gestionale di controllo che possa dirsi permanentemente esercitato dall'azienda, segnalando la necessità di valutare con prudenza forme di disposizione dell'ascito, tali da incrementare anche in via mediata il patrimonio di altri enti. Conseguentemente, in data 28 luglio 2020, la Regione Umbria, l'azienda USL Umbria numero 1 e il Comune di Città di Castello hanno sottoscritto un protocollo di intesa relativo alla destinazione dell'ascito Mariani che sostanzialmente prevede innanzitutto di dare atto che nel rispetto della volontà della signora Clara Mariani il lascito della medesima disposto per alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovino nel bisogno di cure e vivono nel dolore sia destinata all'organizzazione dalla erogazione dei servizi sanitari resi sul territorio del Comune di Città di Castello in coerenza e nel rispetto sia della programmazione sanitaria individuata dalla Regione Umbria sia dei fini istituzionali dell'azienda USL Umbria numero 1 inoltre di impegnare la Regione Umbria a predisporre i provvedimenti necessari affinché il lascito, così come individuato in apposito capitolo del bilancio del Comune di Città di Castello sia trasferito dal patrimonio del Comune di Città di Castello a quello dell'azienda USL Umbria numero 1 e ancora di impegnare l'azienda USL Umbria numero 1 a disporre dell'ascido ponendo in essere attività in un ambito permanente di gestione e controllo al fine di garantire da un lato l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari resi sul territorio Comune di Città di Castello in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e dall'altro il rispetto dei limiti di legge in ordine ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile infine di impegnare il Comune di Città di Castello a fornire ogni utile collaborazione attraverso l'adozione degli atti di competenza eventualmente necessari per l'attuazione dell'intesa anche riguardo all'individuazione dell'esigenza della popolazione tifernate e dal rispetto delle volontà testamentarie della signora Clara Mariani è quindi attualmente oggetto di approfondimenti consigliere Bettarelli da parte delle direzioni regionali competenti la possibilità di utilizzo dell'edificio in questione e all'esito degli stessi sarà valutato se e con quali risorse poter operare grazie grazie vicepresidente consigliere Bettarelli una replica velocissima perché l'assessore ha fatto una ricostruzione molto seria molto precisa e molto dettagliata degli ultimi venti anni ha ricostruito alla perfezione i fatti e gli eventi trascorsi citando dei libere atti insomma anche a partire dal 2006 quindi molto molto dettagliata e per questo lo ringrazio credo che però sostanzialmente la risposta alla mia interrogazione sia una ammissione che a questa giunta regionale di recuperare l'ex ospedale di Città di Castello non dico nemmeno di portare avanti il progetto Casa della Salute perché quello è veramente andato da quello che capisco nel dimenticatoio ma di recuperare l'ex ospedale di Città di Castello non gli interessa niente perché il finale dell'assessore è molto chiaro vedremo, faremo, valuteremo se dopo vent'anni e dopo un anno di mandato della Presidente Tesei e di questa maggioranza attrazione leghista non ci sono più i soldi non si pensa più di investire parte dell'ascito mariani che ovviamente non era destinato alla parte strutturale quindi alla parte patrimoniale ma alla parte di infrastrutture di strumentazioni tutto quello che poteva essere destinato a lenire la sofferenza dei malati credo che torniamo al 2000 sostanzialmente l'assessore oggi mi dice che siamo il 3 dicembre 2020 ma per quello che riguarda l'ex ospedale di Città di Castello potremmo essere al 3 dicembre del 2000 quindi prendo atto che la Regione non è interessata a recuperare l'ex ospedale di Città di Castello grazie oggetto numero 20 interroga De Luca e risponde l'assessore Coletto prego grazie presidente io assessore ci giro poco intorno assessore Coletto i conti diciamo non tornano e vogliamo vederci chiaro sul sul numero e sull'utilizzo dei ventilatori che sono stati inviati alla nostra Regione dal Governo che sono stati donati da imprese associazioni privati e su quelli che erano in possesso nella fase pre-covid da parte della Regione sono sempre stato diciamo affascinato dalla matematica ma non sono stato ecco non sono una medaglia filz ma ho sempre portato a casa la sufficienza quindi voglio ripilogare insieme a lei i numeri che sono pubblici e che sono diciamo agli atti i numeri che voi avete sempre riferito nella fase pre-covid quindi di terapie intensive presenti sono 69 in base agli accessi agli atti fatti dal diciamo dal consigliere Bettarelli i ventilatori donati per quanto riguarda terapie intensive sono 28 per quanto riguarda i dati ovviamente questo accesso agli atti è datato quindi probabilmente potrebbero esserci delle aggiunte per quanto riguarda quelli arrivati dalla protezione civile da sito open data del governo il numero è 60 ora noi basta fare la somma 69 più 28 più 60 andiamo a finire a 157 ventilatori 157 ventilatori i dati ad oggi delle terapie intensive installate quindi per quanto riguarda il piano escluso il piano di salvaguardia sono 130 per quanto riguarda il piano di salvaguardia dobbiamo considerarci che l'ospedale da campo ha ulteriore materiale previsto all'interno dell'appalto che il diciamo il famoso la famosa il protocollo con Civitanova Marche prevede dei posti letto che dovrebbero andare in quella sede quindi ci auguriamo che almeno ci venga quelle siano fornite di attrezzature se noi andiamo a fare la somma con quelli che voi avete richiesto attraverso la nota del 13 novembre al governo arriviamo a 211 ventilatori ora io diciamo capisco tutto ma che fine hanno fatto questi ventilatori io credo che su questo possiamo concordare l'assessore i posti di terapia intensiva sono fondamentali hanno inciso non solo sulla tenuta del nostro sistema sanitario ma indirettamente anche sull'adozione delle misure restrittive perché hanno inciso nella saturazione dei posti per troppo tempo e qui ovviamente governi di ogni colore hanno tagliato sulla sanità letti strumentazione ma soprattutto personale perché poi i medici infermieri e personale sanitario sono fondamentali perché i ventilatori non vanno da soli quindi qui faccio una diciamo un'assunzione di responsabilità che deve essere di tutta la politica concludo presidente quindi noi chiediamo a lei assessore relativamente all'informazione riportata in premessa e si chiede di sapere la rendicontazione puntuale e il relativo utilizzo dei ventilatori polmonari complessivamente nella disponibilità della regione Umbria comprendendo conciò anche le apparecchiature eventualmente donate direttamente o già in possesso delle aziende sanitarie e aziende regionali senza il tramito della regione spiegando altresì come si intenderebbe impiegare gli ulteriori macchinari richiesti con la PEC 206270 protocollo del 13-11 2020 dalla presidente Donatella De Sei al commissario straordinario per l'emergenza Arcuri Assessore prego con deliberazione della giunta 483 del 19 giugno è stato adottato il piano di riorganizzazione della retta ospedaliera per l'emergenza covid-19 ai sensi dell'articolo 2 decreto legge 34 del 19 maggio del 19 maggio approvato il 2 luglio prego il 2 luglio del 2020 con decreto direttoriale direzione generale della programmazione sanitaria del ministero della salute successivamente registrato presso la corte dei conti con cui è stato disposto il seguente incremento dei posti letto allora noi partiamo da una programmazione di terapie intensive che valeva 69 posti letto che vale attualmente 69 posti letto nel senso che per quanto riguarda l'attuale programmazione quella che vale che poi è stata successivamente modificata la partenza era proprio di 69 con l'intervento del ministero per arrivare a 0,14 posti letto per mille abitanti sempre di terapie intensive e devono essere aggiunte e dovevano essere aggiunte altre 58 per un totale di 127 più 62 terapie semi intensive delle quali almeno la metà doveva essere immediatamente nella possibilità di essere implementata a terapia intensiva vera e propria pertanto la regione dell'Umbria per il piano di riorganizzazione limitatamente all'allestimento dei posti letto di terapia intensiva e semi intensiva risulta un fabbisogno complessivo di 89 ventilatori per terapia intensiva e 31 ventilatori per la terapia semi intensiva come si desume dal sistema analisi distribuzione aiuti della protezione civile nel corso della fase emergenziale durante i mesi di marzo e aprile alla regione dell'Umbria sono stati assegnati 60 ventilatori per la terapia intensiva e 31 ventilatori polmonari per la terapia semi intensiva grazie alle risorse messe a disposizione dei soggetti benefattori sono stati donati alle aziende sanitarie regionali attraverso il coordinamento della protezione civile regionale i seguenti dispositivi 24 ventilatori per la terapia intensiva e 20 ventilatori polmonari per la terapia semi intensiva regionale pertanto complessivamente da marzo ad oggi sono stati acquisiti nell'ambito della rete ospedaliera regionale 84 ventilatori per la terapia intensiva 60 più 24 e 51 ventilatori polmonari per la terapia semi intensiva 31 più 20 successivamente lo scopo di contrastare in maniera efficace la seconda ondata epidemica e nelle more dell'implementazione del piano di riorganizzazione la giunta regionale ha adottato il piano di contenimento con DGR 1006 del 2 novembre e il piano di salvaguardia emergenza covid-19 con DGR 1096 del 16 di novembre si riporta di seguito lo sviluppo complessivo dei posti retti di terapia intensiva e semi intensiva nell'ambito della rete ospedaliera regionale quindi le terapie intensive codice 49 siamo partiti appunto come si diceva da 69 i posti retto nel piano di contenimento sono stati implementati sempre di terapia intensiva 58 nel piano di salvaguardia sono aumentati gli ulteriori 18 per arrivare a un totale di 145 per quanto riguarda la semi intensiva i posti retto nel piano di contenimento sono stati 74 10 nel piano di salvaguardia per un totale di 84 di cui sempre 31 di semi intensiva immediatamente convertibili in terapia intensiva pertanto limitatamente l'allestimento dei posti retto di terapia intensiva e semi intensiva risulta un fabbisogno complessivo aggiornato di 107 ventilatori per la terapia intensiva e 53 ventilatori per la terapia semi intensiva considerato quanto già acquisito resta un fabbisogno residuo limitatamente all'allestimento di posti retto di terapia intensiva e semi intensiva di 23 ventilatori per la terapia intensiva e 33 ventilatori polmonari per la terapia semi intensiva con nota PEC 1803 del 16 11 affirma il Presidente della Giunta regionale è stato richiesto al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica covid-19 l'invio anche in anticipo rispetto alla previsione del piano di riorganizzazione dei seguenti dispositivi 49 ventilatori per terapia intensiva e 34 ventilatori polmonari per terapia semi intensiva si evidenzia che in riferimento ai ventilatori per la terapia intensiva la differenza di 26 unità deriva dal fatto che presso tutti i presidi ospedaliere della rete regionale coinvolti nell'emergenza sanitaria sono presenti posti letto in pronto soccorso nelle aree di osservazione breve intensiva per i quali è indispensabile prevedere presidi per la ventilazione invasiva per i pazienti in attesa di diagnosi oltre a dover tener conto di una certa tolleranza per eventuali malfunzionamenti in riferimento ai ventilatori per terapia semi-intensiva nelle more di poter acquisire dispositivi tecnologici e poter garantire la immediata conversione di posti letto di terapia semi-intensiva in posti letto di terapia intensiva ovvero dotati di necessario strumentazione di ventilazione invasiva in cui il riperimento risulta al momento più difficoltoso si prevede di allestire la totalità dei posti letto con presidi per la ventilazione non invasiva grazie De Luca no Bori Assessore noi abbiamo seguito attentamente i dati che lei ha fornito sulle terapie intensive e subintensive purtroppo segnaliamo che questi dati non tornano non tornano con l'attuale numero di posti letto disponibili e c'è un difetto notevole in questo numero la richiesta per cui voi vorreste arrivare a 211 posti letto ci vede virtualmente favorevoli vorremmo capire però come sono stati usati i ventilatori per le donazioni i ventilatori forniti dal governo perché a legge ha un dubbio il fatto che siano stati sostituiti i ventilatori presenti sostituendo quelli già installati e mettendo questi nuovi nel caso si porrebbe un serio problema perché i ventilatori forniti sono incomodato d'uso e quindi non sono nella disponibilità del sistema sanitario regionale per sempre ma sono solamente incomodato d'uso questa ora sarà una delle tematiche che verificheremo con i colleghi però dai numeri che ha fornito lei al di là che mancherebbero quattro ventilatori portatili ma non è quello il tema il tema è come sono stati utilizzati noi ci torneremo avremo modo però la risposta mi dispiace non è soddisfacente e i conti da quello che ci dice lei non tornano grazie 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 a tutti